Con loro, le spiagge e i luoghi più frequentati di Fano erano sicuramente puliti e ben tenuti. Stiamo parlando di quel gruppo di volontari che attraverso i social si sono incontrati per rendere alcuni punti della città fanese migliore. Sono i volontari di Puliamo Fano. Un esperimento che ha visto nei primi momenti poca partecipazione di pubblico, ma poi con il passare del tempo si è arricchita di tanti cittadini che con guanti e sacchi alla mano hanno iniziato a raccogliere e a raccogliere. Solo prima dell'inizio dell'estate sono stati raccolti ben 2600 kg di immondizia delle più variate tipologie. Carta, bottiglie di vetro e plastica, mozziconi di sigaretta e oggetti abbandonati e addio. Sì, perché la squadra di Puliamo Fano ci riprova di nuovo e invita chi vuole, domenica prossima, 22 settembre, dalle ore 9 del mattino, in un nuovo punto della città. Noi siamo un po' di componenti di Puliamo Fano. La nostra idea è partita a febbraio dell'anno scorso, anzi di quest'anno, 2019, e poi ci siamo fermati per l'estate. Adesso vorremmo riprendere. L'invito è portato a tutti i fanesi e quindi non sappiamo di volta in volta. Siamo partiti da 5, siamo arrivati 80, poi siamo leggermente ridiscesi, quindi siamo nella speranza di tutti i fanesi di buona volontà. Sarà domenica prossima, il 22, e abbiamo pensato di ricominciare alla pista dei go-kart. Ecco, l'unica cosa che diciamo, portate i guanti, perché dove andiamo a mettere le mani, insomma, non è sempre cose piacevoli. Quindi il nostro invito è questo. Il resto forniamo noi tramite degli sponsor e dell'ASET soprattutto. Quindi allora, le ho prese. Allora, dopo, questo è l'invito.